benvenuti a questa nuova lezione su tinkercad oggi parleremo di come modellare per stampare in 3d quindi vi farò vedere alcuni dei problemi più comuni che si riscontrano quando si passa dalla modellazione alla stampa 3d e come fare a risolverli o comunque ad aggirarli ora io vi ho già preparato alcune immagini alcuni scusatemi modelli da esempio li ho nascosti quindi li faccio riapparire eccoli vediamo se ecco diciamo che li possiamo dividere in 2-3 gruppi allora iniziamo con un oggetto del genere quindi un oggetto che ha una parte verticale e un oggetto con un angolo di 90 gradi ora naturalmente io come esempio vi ho preso degli oggetti molto molto semplici dove in realtà questi tutti i problemi che ora vi vado a spiegare sono facilmente aggirabili semplicemente cambiando l'orientamento però è sempre bene saperli allora qual è il primo problema che le stampanti 3d soprattutto a filamento hanno è che lavorando con il filamento caldo hanno bisogno di appoggiare gli strati uno sull'altro uno sull'altro in maniera continua quindi se io vado a stampare un oggetto del genere posizionato così non avrò problemi fino a che arrivo a più o meno questa altezza quando la stampante deve iniziare a creare questo oggetto laterale questo verrà depositato sul vuoto quindi lontano dal piano di stampa per cui lavorando a caldo il filo tenderà a colare e questa superficie qui non verrà non verrà estrusa uniformemente ma non solo questa ma per un bel pezzo il mio il mio filamento verrà depositato in maniera in maniera poco poco corretta quindi come si risolve molti software ve la risolvono semplicemente andando ad aggiungere materiale in modo che questo poi venga rimosso dopo la stampa quindi aggiungendo materiale di supporto che funziona da base questa soluzione può andar bene se abbiamo vincoli stretti però in caso in cui siamo noi a modellare il nostro oggetto dobbiamo sempre aver presente questo problema che si porrà nel momento in cui l'andrò a realizzare quindi le soluzioni più veloci quali sono quando si modella prima di tutto andare ad identificare una base su cui appoggiare il nostro oggetto quando verrà stampato quindi in questo caso se io lo ruoto a 90 gradi e lo posiziono ecco qua appoggiato sul piano di stampa ecco che tutti questi problemi semplicemente vengono già risolti in questo modo un'altra alternativa è quella di ruotarlo in modo che la base sia sempre uniforme e l'aggetto che prima era laterale venga costruito verso l'alto quindi già così semplicemente ruotando il mio oggetto in maniera diversa rispetto al modo in cui l'ho costruito risolvo un primo problema sulla stampa 3d quindi questa è la prima cosa importante ed è una cosa che dovete sempre tenere presente non è detto che l'oggetto vada stampato nel modo in cui l'ho pensato l'ho disegnato l'oggetto va ruotato girato nell'orientamento migliore per poter essere stampato bene perfetto quindi andiamo a mettere questo da una parte e prendiamo facciamo riapparire prendiamo un altro esempio mi tengo questi due oggetti qui il problema se vogliamo è simile al precedente sull'arco in primo piano ok come vedete via via che la macchina stampa e costruisce le colonne non ci sono nessun problema ma quando va a fare l'architrave questa parte nel mezzo rischia di venire di venire peggio per il solito motivo perché il materiale caldo tenderà a cedere quindi ora questo è un oggetto singolo che quindi basterà riorientarlo per avere una buona stampa però immaginatevi che questo sia una parte di un un oggetto molto più grande per esempio la porta all'interno di un plastico e tutto il plastico non possa essere ruotato quindi in questo caso se non ho vincoli di costruzione se posso disegnarlo come voglio io e la finalità del mio progetto è quella di essere stampato in 3d piuttosto che disegnare una porta con angoli a 90 molto più utile disegnare una porta ad arco ora è leggermente più piccola ma l'arco essendo una figura più continua con una curva molto meno accentuata rispetto a un angolo a 90 gradi permette alla stampante di seguirne l'andamento e quindi di essere costruita senza bisogno di aggiunta di materiale di supporto quindi se dovete fare una porta o una finestra per poi essere stampata che poi vada stampata in 3d la forma ad arco può essere preferibile rispetto a quella a 90 gradi poi naturalmente ci sono le volte in cui questo non è possibile però come linea generale, come linea di principio tenetela sempre a mente invece che disegnare angoli netti è sempre meglio assecondare con una curva, con un arco bene, ultimo esempio allora posso farvi sparire questi in realtà ve li faccio riapparire subito dopo l'ultimo esempio che vi volevo far vedere scusate, ritorno a farvi disparire eccolo qua è questo questo qui una superficie ampia un colonnato una superficie ampia retta da colonne qui il problema si ripropone fino a che io costruisco le colonne non ho problemi quando si comincia a fare il tetto e chiaramente tutte queste superfici qui sono un po' a rischio in questo caso la geometria non mi aiuta perché il mio tetto come vedete non è piano ma è aspiovente per cui io non posso semplicemente andare a ruotare tutto di 180 gradi e sperare di risolvere perché in questo modo invece mi complico ancora di più la vita bene per cui in alcuni casi l'unica cosa da fare è dividere il nostro oggetto in due perché qui se comincio a far aggiungere al software materiale di supporto poi andare a rimuoverlo diventa difficile perché comunque ci sono le colonne sono spazi stretti qui la macchina ne metterà tantissimo di materiale di supporto quindi la cosa migliore da fare è separare le due superfici e qui lo posso fare molto bene in realtà perché posso tagliare posso anche scegliere dove tagliare posso tagliare la cosa migliore posso separare le colonne dal tetto però poi siccome le colonne sono tante può essere difficile andare a riunirle l'altra alternativa può essere tagliare il tetto a metà in modo da stampare il tetto a spiovente verso l'alto l'altra metà ruotarla e fargli fare da base alle mie colonne quindi stampare le colonne verso l'alto qual è il problema è che Tinkercad non ha un vero e proprio strumento di taglio quindi o utilizzate strumenti di taglio che vi offrono i software o che vi offrono altri programmi di modellazione oppure dobbiamo arrangiarci in Tinkercad il taglio può essere fatto abbastanza facilmente utilizzando una forma vuota prendo il mio solito cubo lo abbasso al minimo per esempio un millimetro ma se voglio possiamo andare anche sotto 0,5 mm quindi lo faccio veramente molto molto fine lo allargo per quanto mi serve dopodiché vado a decidere eccolo qua dove andrò a effettuare il mio taglio in pratica cosa faccio? vado a rimuovere una parte piccolissima si può arrivare a fare ancora meno si può fare, se non ricordo male fino a 0,05 eccolo qua quindi andrò a rimuovere una parte sottilissima del mio oggetto e questo però farà sì che le due forme siano separate e che una volta importato il modello che comunque sarà esportato come un unico all'interno del software di slicing a quel punto lo potrò dividere in due metà e andare a scegliere lì dentro l'orientamento quindi a questo punto niente di complesso vado a selezionare tutto e ad unire eccolo qua è rimasta la traccia del mio taglio bene, ora questa è una superficie abbastanza ampia quindi il taglio ovviamente non si vedrà dall'altra parte però se io vado a ruotare il mio oggetto vedo che il taglio è tutto lungo la superficie per cui questa è l'altra soluzione quando ruotare quindi variare la posizione l'angolo di un oggetto non risolve tutti i miei problemi un ultimo suggerimento quando modellate per la stampa 3D prima di esportare un oggetto ricordatevi sempre di raggrupparlo quindi di unirlo di fare quello che in linguaggio più tecnico si chiama unione booleana cioè mi spiego meglio come vedete se io vado a fondere due forme tra loro in realtà tutta la parte che è in condivisione rimane mentre una volta che vado ad unirle raggrupparle eccola qua la forma è data solamente dai perimetri esterni e questo facilita molto nel momento in cui bisogna andare a stampare in 3D quindi ricordatevi sempre prima di esportare il vostro lavoro quindi quando avete concluso la modellazione assicuratevi sempre che tutte le forme siano state raggruppate che quindi la figura sia solamente la la somma dei perimetri esterni bene questo naturalmente ha un senso relativo quando si lavora con due sole forme però se immaginatevi di esportare nelle lezioni precedenti quando abbiamo costruito la cupola se io avesse esportato tutte le forme singolarmente il file che mi sarebbe uscito sarebbe stato molto molto complesso da gestire da elaborare invece raggruppandolo fino via via fino alle ultime forme io ho sempre una superficie molto pulita e molto più facile da gestire nelle stampanti bene per questa lezione abbiamo concluso e ci vediamo alla prossima grazie 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 a tutti